buongiorno buongiorno e benvenuti in un nuovo video video pulizie perché ho la casa veramente sotto sopra e ho proprio un po di disastro di qua la lavanderia che sembra che sia scoppiata una bomba mille panni da piegare insomma ho il mondo e però sa da fa e tra l'altro sono super contenta su instagram ve lo ho già fatti vedere siccome io vado dal parrucchiere una volta l'anno quella volta che ci vado me ne vado per un pochino e quindi ieri sono andata dal parrucchiere ho fatto un bel po di sfumature tra l'altro una parrucchiera nuova che la prima volta che provo è la vita troppo brava quindi sono super contenta sono super emozionata super carica quindi io mi auguro in questo pomeriggio di riuscire a fare quante più cose possibili dato che ho questa energia spero che non sia una di quelle energie quei picchi che poi dopo poco calano ma spero che duri perché veramente ho la casa in stato pietoso tra l'altro questa settimana abbiamo avuto abbiamo tenuto anche il cane di mia mamma perché lei era andata in ferie e non vi dico la quantità di peli che ci sono in giro anche sul divano io avevo messo due coperte su tutto il divano per evitare di sborcare il meno possibile ma è comunque pieno di peli non so come sia possibile ma è così quindi dovremmo aspirare passare l'aspira polvere voglio lavare i pavimenti io ho diciamo che ho tre ore e mezza forse quattro dipende non lo so però tre ore dovrei averle per riuscire a fare quante più cose possibili quindi direi di iniziare subito altrimenti non inizio più e quindi non finisco più di conseguenza e basta buona visione buone pulizie mi raccomando che ci viene la carica tutte quante ci viene l'energia di fare di rivoluzionare tutto dai eh di fare di rivoluzionare tutto dai eh di rivoluzione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti